La collezione delle mappe del tesoro peruviane, l'Atlante topografico della pianura terribile, i profumi preferiti da Paperone, volume 12... Biscotti appena fatti, lo sapevo! Ecco una delle tante ragioni per cui amare DuckTales, le loro incredibili avventure! Concentrati Gaia, siamo qui per scoprire qualcosa su Della Duck. Allora il blu cerca notizie del suo passato, ma sarà così forte da sopportare la verità? Sì... No! Dovrai prima dimostrare di esserne degno superando le prove! Questa è la mia biblioteca preferita. Silenzio! Ammira la tua prima prova! Devi decifrare l'antico e misterioso codice qui dentro! Miss Paperet, in genere sono super interessato a misteriose ricerche di cospirazioni, ma non mi potrebbe dare un po' di informazioni su mia madre? Non dubitare degli antichi metodi. Sto solo dicendo che questi mi sembrano più dei temporeggiamenti che delle prove. A noi non è dato capire come funzionano gli archivi. Ma è proprio questo il suo lavoro. Non sa nulla, io me ne vado. No! Nessuno se ne va una volta intraprese le prove! C'è chi ti distruggerebbe! Per la conoscenza che cerchi! Chi mi distruggerebbe? Zio Paperone, il governo, gli illuminati dell'unicorno? Zio, un attimo! A Paperopoli, ogni giorno c'è una nuova avventura da vivere! Ok, niente di fatto. Ma che cos'ha questa stupida biblioteca? Non perdere DuckTales! Ogni domenica alle 19.45 su Disney Channel. Grazie a tutti!